eccoci ragazzi test ride africa twin facevo più alta ragazzi bella comodissimo bene sono l'ultimo ragazzi sono l'ultimo molto comoda mamma una poltrona e ragazzi una poltrona sta moto bella 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 motore sembra grintoso bello 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 quello è quando me siamo un po in troppi fa sta prova però molto più leggera rispetto alla mia sembra molto molto più leggera a livello proprio di guidabilità beh dai molto bella com'è ragazzi guidabilità incredibile calcolando che c'ha il cerchio da 21 è quindi vuoi fare un po di offroad ragazzi molto bene vai che ci passi si restringe ancora beh ottima come guidabilità ragazzi bella buche si sentono poco qua c'è un po di ghiaino bello un bel giretto molto morbida come come risposta bella stradine che mi fanno fare ma comunque più grintosa rispetto alla Wstrom almeno rispetto alla mia 1000 è molto più più grintosa questa questa Africa Twin che a livello di frenata bella bella mi piace la frenata c'è leggermente scattosa figaro che moto ragazzi forse leggermente morbida a livello di sospensioni però magari è da regolare un attimo io lo preferisco leggermente più più dura però sicuramente è anche non regolata una cosa da test ride sarebbe da regolare un po' magari è da capire meglio i settaggi è bella stradina però figaro no bella bella cattiva mamma mia oh spettacolo è una potena è fenomenale sta moto ragazzi è fenomenale ma guardate qua spettacolo bellissima è proprio grintosa ragazzi è cattiva è cattiva sta moto è cattiva bella mi piace prossima moto Africa Twingo senza DCT perché a me DCT non mi piace bella bella anche perché ragazzi mi manca la Honda mi mancherebbe eh ho fatto Kawasaki Yamaha Suzuki e le quattro sorelle mi mancherebbe la Honda quindi adesso ne passerà un po' eh però ragazzi un bel pensierino sta moto ce lo farei bella 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 mi piace proprio figa che spettacolo di moto ragazzi bellissima si torna a casa da quel di Bobbio devo dire una bella non ci sono mai stato il primo anno che vengo qua ed è una una bella manifestazione si possono provare le moto quindi devo dire che ottimo 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 ci tornerò magari anche l'anno prossimo magari verrò un altro giorno magari sabato visto che fanno sabato domenica se si riuscirò se no verrò ancora domenica comunque devo dire che non me l'aspettavo è un altro giorno così come manifestazione ottima e niente si torna a casa poi comunque la zona è davvero bellissima quindi qua in quel di in quel di Bobbio che è uno dei borghi più belli d'Italia devo dire che è un giretto 140 km 150 da casa quindi neanche più di tanto si fa abbastanza in fretta a meno io però comunque ci verrò un po' più spesso bella manifestazione davvero qua davanti c'è un bel motore ad uno quindi ragazzi se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao va sul cavalletto così eh porco cane che mostro ciao 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 ciao